Ciao a tutti, oggi 31 ottobre, siamo a Superga per rendere omaggio agli Invincibili, direttamente da Pesaro siamo venuti qui appositamente per parlare della partita di ieri. Abbiamo battuto il Milan, 2-1, golli di Gigi e Mirancic, poi le solite farfalle di Milinkovic-Savic e però abbiamo portato finalmente a casa lo scalpo di una biga. Iudice è riuscito finalmente dare ardore e calore al nostro squadra, però notate, oggi ci voleva. Nella prima partita veramente vinta con una delle grandi del campionato italiano, non poteva non essere celebrata qui, in questo luogo sacro per noi Granata. Nella pancia del tifoso, dagli amici di Senza Giacca, un abbraccio a tutti, forza Toro, sempre e comunque contro chiunque. Piccola chicca, ma se noi avessimo giocato anche il derby con questa ardore, forse un derby lo avremmo vinto negli ultimi 17 anni, vero? Eh ma questo dobbiamo chiedere a Cairo. Ciao a tutti!